Salve a tutti ragazzi, sono Inferno86, sono qui oggi in un mio nuovo video su Last Day on Year Survival perché sto andando in un punto strategico che mi ha consigliato una mia iscritta Sara Ansaldi non sapevo che qui in questa casetta, questa casetta è stata messa dai programmatori del gioco credevo che era uguale a tutte le altre casettine dei nemici che si trovano sulla mappa io ne ho altre due, sono andato a visitarle e purtroppo le case erano chiuse serve l'esplosivo per abbattere i muri o le porte e mi ha consigliato di andare in questa casettina qua che sto raggiungendo adesso piano piano ma adesso uso l'energia per voi perché comunque se no ci impiega una barca di tempo di andare in questo posto qui perché si trovano delle belle cose ma usiamo l'energia e corriamo subito verso la casetta qua di Kenshin che è un nome a caso che hanno messo i programmatori, ognuno di voi avrà un nome diverso comunque se volete trovare dei materiali, delle cose nuove come mi ha spiegato che trovi delle altre cose ricordate di andare sulla destra della vostra base in fondo qui vicino alla risorsa in verde e di entrare dentro questa casetta qua e guardiamo insieme ragazzi, io non so niente, non vi posso dire niente perché è la prima volta che entro, sono entrato in tutte le altre tranne in questa quindi grazie Sara Ansaldi scusami di questo grandissimo consiglio quindi andiamo qua, qua c'è la solita macchina distrutta andiamo a vedere cosa c'è dentro la macchina e non c'è niente qua c'è la solita casa le casse spettacolo prendiamoci un po' di carne visto che ci serve poi magari prendiamo gli altri materiali gli soliti materiali è una casa aperta ci sono un po' di cose interessanti tipo l'acqua che la prendiamo molto volentieri le carote che servono sempre siccome siamo sempre senza mangiare e qua c'è la moto qua ci sono i pezzi della moto che non ci fa prendere e ci stanno anche attaccando ecco il lupacchiotto maledetto prendiamo anche i pezzi lupacchiotto prendiamo i tronchi perché comunque ci servono risorse gratis ma non ci fa accedere alla moto qua c'è la casetta se tanti si chiedono perché le case degli altri giocatori hanno il tetto è la stessa cosa se un altro giocatore viene a visitare la vostra casa anche lui vedrà il tetto ma non è non si può costruire è una cosa data dal gioco per non far vedere quello che c'è dentro vediamo al forno cosa c'è ci prendiamo tutto ragazzi cosa o mai la carne la uso no ho sbagliato ci prendo i materiali che ci sono qua me li prendo quasi tutti gli altri magari li lascio lì qua arriva un altro zombie a rompere le scatole però i tronchi le pietre e il ferro ce lo prendiamo magari utilizziamo le bacche e prendiamo anche la pietra però oltre questo non c'è nient'altro speravo che le parti qua della moto si potevano rubare ma non si possono prendere io penso che questa qua sia una base di un giocatore che magari non gioca più e il server i programmatori qua vedete che chiede il c4 per far esplodere la porta quindi quando ce lo procureremo o se lo troveremo da qualche parte veremo qui e faremo saltare tutto ah si può far saltare qualsiasi cosa vabbè per ora non abbiamo il c4 quindi non possiamo fare niente facciamoci un giro largo giusto per vedere se c'è qualcosa comunque si sono trovati dei materiali utili a gratis sempre meglio che niente speravo di trovare qualcosina di più ma diciamo che è andata bene così qua c'è un altro tavolo di lavoro quindi io direi di le assi comunque sono sempre utili cosa posso buttare via qua cosa c'è il cappellino altre carote che non ci stanno tutte le pietre tre bottiglie vuote io lascio giù la pelle ragazzi no mi stanno attaccando un'altra volta sto maledetto zombie le carote non le lascio e me le mangio mi prendo le bottiglie vuote che sono sempre utili e le scarpe queste qua le elimino così non le trova nessuno mi metto le scarpe nuove qua le assi le assi le vorrei prendere perché comunque mi servono sempre magari le vengo a prendere la prossima volta queste cose qua le possiamo lasciare qui che tanto non mi servono niente ragazzi è stata una buona scoperta grazie a Sara Ansaldi devo dire che non mi aspettavo di trovare io sentivo la gente che mi diceva ma c'è la casa lì di tizio caio sempronio che non ha i muri solo che io andavo sempre nelle altre case e avevano i muri avevano tutto non riuscivo ad entrare sono riuscito a fregare qualcosa dall'orto ma non sono riuscito a fare nient'altro però qua devo dire che ci sono delle belle cose si potrebbero cioè non si possono fregare qua purtroppo il manubrio e e il serbatoio le forcelle e il serbatoio non si possono fregare peccato sarebbe stata una cosa molto ma molto utile vabbè le troveremo poi ora torniamocene alla mia base vediamo il tempo che ci impiega perché c'ho solo 59 di energia quindi non so se riesco ad arrivarci se compariva un bel aereo adesso sarebbe stata una cosa veramente buona 42 si ragazzi ce la faccio poi la tanto di energia si ricarica 5 minuti ogni punto di energia quindi poi più tardi farò un altro video magari andando da qualche altra parte magari ritornerò voglio provare ad andare in questa foresta qua in fondo rossa qua per vedere se nelle casse trovo qualcosa ma entriamo nella mia bellissima base ragazzi sto cercando di ampliare tutto sto cercando di potenziarmi bene perché voglio che quando arrivano le orde degli zombie non non mi distruggano tutto un altro consiglio che mi hanno dato che mi ha dato sempre Sara Ansaldi e devo ringraziarla ancora è che quando arriva l'orda degli zombie se voi siete fuori dal dalla vostra base invece di distruggervi tutti i muri vi distruggeranno un muro o due muri quindi se nel caso state giocando e sta arrivando l'orda degli zombie non cercate di fermarla state al di fuori andate a fare una risorsa andate a fare qualcosa e aspettate che attacca quando arriva l'orda di zombie avete mezz'ora di tempo prima che l'orda se ne vada se voi siete nella base l'orda arriva e se ne va invece se voi siete al di fuori ci vuole mezz'ora quindi magari state in una risorsa al di fuori entrate nella parte verde poi uscite dal gioco aspettate mezz'ora rientrate è un consiglio che mi hanno dato molto utile e che do anche a voi adesso metto le carottine a fare poi ci metterò la legna adesso sistemo un po' tutti i materiali qua metto giù da mangiare allora metto la legna qua a preparare da mangiare questo è sempre utile poi vado fuori e metto le bottiglie a riempire con l'acqua così prendo anche le carottine sto diventando un coniglio ragazzi a fuori di mangiare tutte ste carote adesso diamo anche un riabbocco di semi siccome ne ho un bel po' dentro nella cesta adesso oggi ragazzi farò altre ceste di queste qua vorrei cercare di fare le altre ceste quelle più potenti ma ci vogliono i lingotti di acciaio e oac plank quindi non riuscirò mai a farlo come vorrei fare anche il nuovo zaino che sono riuscito a sbloccare ancora no ancora non sono riuscito a sbloccarlo ok no ancora si sblocca a livello 64 vorrei riuscire a fare questo mi basterebbe trovare un cavolo di lingotto di acciaio per fare questo zaino che sarebbe una bella cosa perché ci stanno molte cose in più questi ce ne stanno 12 questo mi sembra normale che abbiamo tutti è da 8 8 si 4 in più 4 spazi in più sono veramente utili allora cosa dovevo fare mettiamo dentro le carottine ancora questo era pieno mettiamoci qua altre carottine qua e facciamo un riabbocco di legno poi diamo un mettiamo questi qua e diamo un riabbocco di legno qua e qua la stessa cosa poi facciamo le pietre che mi servono per fare i muri qua non ne avevo ok mettiamo via tutto mettiamo i bulloncini nella moto ragazzi perché io voglio più che altro vorrei riuscire a fare la moto qua mi mancano tre bulloni mi mancano poche cose poi il resto il manubrio lì le forcelle scusate e il serbatoio speriamo che lo riesco a trovare nell'aereo perché io penso che nell'aereo c'è perché ci sono tante cose nelle valigie dell'aereo nei bagagli dell'aereo ci sono tante di quelle cose solo che arriva proprio quando non ho più energia sembra un po' fatta apposta dai programmatori per far spendere i cash vabbè comunque prima o poi ce la faremo ad andare lo zio ha sete quindi gli diamo un po' di acqua e gli facciamo mangiare un po' di carne secca così mettiamo un'altra bottiglia a riempire altre due ok così ce l'abbiamo sempre a portata di mano io adesso da mangiare ce l'ho sono bello carico quindi posso portarmi magari 20 dietro e 6 li lascio qua così libero uno spazio così mi rimane sempre da mangiare riabbocco i semi che finora non sono ancora venuti a fregarmeli quindi ragazzi non venite a fregarmi le carote mi raccomando sono a marrabbio e vi vengo a fregare tutto a voi quindi attenzione a quello che se trovate la base di inferno 86 non venite a fregarmi le cose perché appena sblocco la mappa e sblocco l'esplosivo sarò ogni giorno da voi quindi attenzione no scherzo vabbè comunque fate attenzione comunque niente ragazzi grazie ringrazio ancora Saransaldi per i consigli utili devo dire veramente grazie perché non ci sarei mai andato siccome ho avuto la fregatura delle altre due infatti guardate ragazzi è arrivato l'aereo e adesso non ho più energia avete visto la fregatura c'è l'aereo qua non posso neanche camminare perché ci impiego 46 minuti l'aereo va via in 26 non ho energia non ho neanche gemme perché ne ho 17 non posso neanche caricare quindi vi costringono a spendere soldi io non li spendo perché si possono attaccare al cosiddetto ok ragazzi dopo tutti i ringraziamenti che ho fatto tutte le belle cose che abbiamo trovato la visione della mia base e tutto che dirvi vi ringrazio per la visione del video e vi ricordo di mettermi mi piace e di iscrivervi al mio canale ciao a tutti dal vostro inferno 86 alla prossima